Infatti, se freghi il sistema, fino a quando pensi di riuscire a fregarlo il sistema? E soprattutto di tutti questi soldi che ti intaschi, che ci fai? Cosa pensi di farci? Restituirli in qualche maniera a questo quartiere sgarruppato da cui vieni, dare una mano? Ha ragione Borgonovo, senza volerti fare la morale, ma se guadagni tanti soldi, rifare il campo di calcio di Piana del Sole, non sarebbe una buona azione? Aiuto, rifà. E se non lo rifà nessuno? Eh, c'è stata Biondina qua, che si è messa a garaggi qua, dice, in periferie. Partisse innanzitutto da, dico, c'è stata il Ponticello a Piana del Sole, sono due anni là, che devo fare 10 km di più perché l'uscita di raccordo è bloccata da quando c'è stata qua alluvione due anni fa, manco me lo ricordo più ormai, non l'ho dimenticato. Quindi ci devi pensare tu, Federica. Poi dico là, ma... Poi, il Ponticello dove? Ma aspetta, aspetta, ce l'ho, Alissa. Sotto casa, te dico sotto casa, c'ho la discarica, ma la grotta è diventata Piana del Sole? Seconda cosa. Terza cosa, i ragazzini vanno in giro a sfonare i semafori, non fanno niente, non c'hanno un punto di ritrovo, sul campetto che diceva quel ragazzino, era un campetto da garcio, che non c'è sta più. Cioè, è diventata una discarica pure quella, è tutta una monestra. Magari lo pagano con i soldi che vado di tu, no? Magari lo pagano con i soldi che vado di tu. Il museo è quello, il museo è quello, a Roma, a Piana del Sole, c'è sanno i gratelli. Lo pagano con i soldi che vado di tu? Lo pagano con i soldi che vado di tu? Vedi, tu pensi di essere, di fregare il sistema, tu sei il sistema. Tu non sei un ribelle, tu sei il sistema. Allora, vattene a casa, ci penso io, non ti preoccupa. Assoluto, eh, pensaci tu, fai qualcosa, invece di lamentarti, visto che sei così bravo, visto che sei così bravo a fare i soldi, l'hai dimostrato, le qualità ce l'hai, sei giovane, sai parlare, fai le qualità. E dici, ma vediamo quanto sei bravo amministrati, dico c'ha ragione, dico c'ha ragione. C'hai una domanda, una curiosità da toglierti. Mettiti in gioco, fai qualcosa, rapidamente. A tre anni lo puoi fare. Certo.